Le periferie sono punti nodali all'interno delle città, così questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli dando il via all'inizio dei lavori di completamento del sottoparcheggio in via della Repubblica a Matierno. L'intervento previsto nell'ambito del programma di riqualificazione dei rioni collinari che fa parte del piano delle periferie consentirà alla zona di Matierno di dotarsi di un nuovo centro di aggregazione socio-culturale. Un milione di euro la spesa prevista per l'intervento. All'apertura del cantiere stamani erano presenti il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore alla mobilità Mimmo De Maio. Grazie all'intervento del comune di Salerno nella struttura attualmente utilizzata parzialmente solo come parcheggio pubblico saranno creati locali destinati a laboratori didattici per il cucito, pittura, modellismo e prodotti multimediali, aree di esposizione e di condivisione, una sala conferenze ed una sala riunioni. Il nuovo edificio sarà completato con i normali uffici di gestione e di amministrazione nonché con un punto ristoro, previsti anche interventi di riqualificazione di tutta l'area circostante. Il piano sovrastante di copertura è riservato ai parcheggi, questo sottostante in due livelli è riservato ad un ambiente per un centro sociale, per dare ospitalità ai giovani del quartiere, per fare in modo che possano riunirsi, dibattere e crescere. Fa parte del piano delle periferie, noi siamo stati tra i pochi comuni d'Italia ad arrivare tra i primi al progetto del piano delle periferie con 18 milioni di euro dati dal governo Gentiloni. 18 milioni di euro insieme alle altre città che hanno partecipato a questo piano delle periferie messe in discussione dall'attuale governo. Noi siamo riusciti a smuntarne e stiamo realizzando le opere. Abbiamo inaugurato questa quest'oggi come inizio lavori, abbiamo ultimato la demolizione dei prefabbricati di genia materno, faremo la fognatura a pastorano e così via di seguito fino al perseguimento e raggiungimento della cifra di 18 milioni. Lo faremo a tempo cadezzato e a tempo di ritmo serrato. Naturalmente voi capirete che le periferie sono nodali all'interno delle città. Noi abbiamo queste periferie, abbiamo queste zone collinari che sono bellissime dal punto di vista paesaggistico e che con queste opere contribuiremo a rivitalizzare. È un altro intervento nell'ambito del bando delle periferie. Qualche settimana fa noi intervistavamo i lavori per la dismissione dei prefabbricati sempre qui nell'abitato di materno. Quell'otto è già stato concluso, quindi è stata fatta la bonifica. Oggi partiamo con questo centro sociale nel cuore di materno insieme alla fognatura nell'abitato di Pastorano. Nei prossimi giorni saranno avviati i lavori relativi al parco del Monte Stella, nel centro abitato di Ogliara per la riqualificazione di tutta l'ambito di Ogliara. Poi infine arriveremo sempre a fratte, anche lì con la dismissione dei prefabbricati ed infine anche sul collegamento viario della tangenziale verso l'abitato di Brignano. Un intervento assolutamente imponente e significativo che appunto riqualifica e rilancia le funzioni dei rioni culinari.